Ciao a tutti, sono Fabrizio Ciaurro, sono un ragazzo argentino, da dieci anni sono arrivato in Italia. Ho cominciato con Rugby Tots più di due anni fa, prima facendo un paio di ore come allenatore. Ho trovato veramente la mia passione lavorando con i bambini, gioco rugby da tutta una vita, per cui è quello che veramente volevo fare col cuore. Velocemente ho cominciato a far parte della società di Costa Etrusca e in questo momento lavoriamo a Firenze, all'Arezzo, Filino e Valdarno e in tutta la Costa Etrusca c'è Ciena, Rossignano e San Vincenzo. È il mio lavoro, è la mia passione, ci lavoro col cuore e i bambini veramente mi fanno stare bene. Grazie a Rugby Tots dopo dieci anni ho trovato quello che voglio fare da qua in avanti. Grazie a Rugby Tots.